Benvenuti a una nuova puntata di Update Espresso. Il focus di oggi è su Brexit. Il mio collega Pierluigi Ciabattoni vi ha aggiornato circa un mese fa sullo status delle trattative. Quest'oggi invece vorrei concentrarmi su quello che Brexit significa in termini di alleanze nell'Unione Europea e di unità dei 27 Paesi membri. Innanzitutto quello che abbiamo visto è una Bruxelles che non vuole fare sconti al governo di Theresa May e fondamentalmente non vuole creare un pericoloso precedente che possa minare l'integrazione e la solidità del mercato unico. Il secondo punto è che con l'uscita del Regno Unito i Paesi Nordici perdono circa il 10% dei voti all'interno del Parlamento Europeo e quindi sarà necessario un attimo vedere che alleanze si formeranno. In particolare ci sono dei paesi come Svezia, Paesi Bassi o Danimarca che si sono sempre allineati al voto di Londra e che quindi adesso perdono in qualche modo una capofila. Inoltre il Regno Unito si era fatto portatore delle stanze di quelle nuove geografie dell'Unione Europea che non avevano adottato la moneta unica. Tutto questo potrebbe avere come effetto quello di portare una maggiore integrazione tra i 27 membri, specialmente su quei temi come la difesa comune e l'unione bancaria che erano osteggiati da Londra. Attendiamo i prossimi sviluppi, ovviamente vi teniamo aggiornati, grazie e al prossimo Update Espresso.